Buon pomeriggio, benvenuti alla nostra seconda edizione di oggi, ultima di questa settimana con le notizie dal web della città. Cominciamo subito con la viabilità, ricordandovi all'indirizzo in sovrimpressione e all'epilogo completo delle notizie. Sono molte le notizie di viabilità perché andiamo a coprire un po' anche il weekend. Cominciamo da oggi, ricordandovi che questa sera a partire dalle 19 a Barriera di Milano ci sarà un corteo degli abitanti per la sicurezza del quartiere. Il corteo partirà da via Cherubini all'angolo con via Mercadante, proseguirà per via Cherubini fino a Corso Giulio Cesare e poi per via Montanaro arrivando in via Spontini. Alle 21 avremo anche una via Crucis, cominciano le manifestazioni per la Pasqua, una via Crucis che riguarderà la zona di San Donato, Campidoglio e Parella, partendo da via Livorno, arriverà poi su via San Donato, via Cibrario, via Principi d'Acaia e si chiuderà in via Duchessa Iolanda. Per quanto riguarda domani sabato vi segnaliamo in piazza Palazzo di Città dalle 8 alle 19 il mercatino biologico, al palazzetto del loro Sport nel Parco Ruffini dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà la festa conclusiva del laboratorio di educazione alla pace e alla solidarietà. Alle 14.30 avremo anche una manifestazione ciclistica con ovvie conseguenze sulla circolazione, partirà da via Vellino, sarà nella zona di Corso Regina Margherita, Corso Tassoni per un percorso circolare che tornerà poi passando da via San Sovino a via Panezza di nuovo in via Vellino. Comunque sulla pagina dei Vigili Urbani trovate il percorso completo. Abbiamo poi campionati di patinaggio al Parco della Colletta e per quanto riguarda i lavori. Abbiamo un divieto di transito in via Foggia tra Corso Palermo e Lungodora Firenze, dei lavori edili in via Fanti tra Corso Montevecchio e Corso Stati Uniti e altri lavori in via Santorre di Santa Rosa tra via Moncalvo e via Martiri della Libertà. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica abbiamo dalle 7 alle 21 una manifestazione in via Salbertrand, una manifestazione commerciale, la festa di via Marzopazzo, ma soprattutto abbiamo una corsa competitiva in città di circa 12 chilometri con partenza dalle 10.30 al Parco del Valentino. Riguarderà tutto sommato il centro cittadino interessando la zona tra il Parco del Valentino e Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Castello. Quindi avremo in questo senso senz'altro delle variazioni alla circolazione prudenza. Quindi domenica mattina se vi recate in centro con l'auto. Abbiamo chiuso con la viabilità, allora passiamo a vedere il tempo, tempo oggi ancora positivo come vedete dall'allevazione dell'Arpa Piemonte sulla nostra home page, cielo sereno, temperatura intorno ai 19 gradi, abbiamo ancora un po' di vento che si sta alzando in città, le previsioni per le prossime ore sono di cielo sereno, però a dire il vero dalla giornata di domani e poi soprattutto nella giornata di domenica avremo pioggia a brutto tempo perché abbiamo una zona di depressione che sta arrivando dall'Artico che porterà un brusco abbassamento delle temperature, porterà pioggia anche a carattere di rovescio nella giornata di domenica, le minime dovrebbero attestarsi per questo weekend tra i 4 e i 7 gradi e le massime però non saliranno al di sopra degli 11-12 gradi, quindi un weekend che sembrerà un piccolo ritorno dell'inverno. Noi andiamo a vedere anche le notizie dal web della città per segnalarvi una notizia di viabilità relativa a lunedì, una notizia abbastanza importante di cui siamo venuti a conoscenza oggi, ci sarà uno sciopero dei lavoratori della metropolitana dalle 16.30 alle 20.30 di lunedì e quindi in quella fascia oraria di 4 ore non è assicurato il servizio regolare. È il momento di andare a sentire da Matteo De Simone quali sono gli appuntamenti culturali per questa sera, per questo venerdì di fine marzo, allora ci colleghiamo con Matteo per avere qualche nozione in più. Matteo. Ciao Mirko, buon pomeriggio, vediamo allora gli appuntamenti per la serata di oggi, venerdì 27 marzo. Per quanto riguarda la musica pop vi segnaliamo al Folk Club di Via Perrone Trebissa alle 21.30 il concerto di David James e Paolo Bonfanti. Musica classica al Conservatorio Giuseppe Verdi in Piazza Bodoni alle 21, gli allievi del Conservatorio eseguono brani di Tagli Fer, Onnegher, Prokofiev e Shostakovich. Teatro al Teatro Garibaldi di Settimo Torinese in Via Garibaldi 4 alle 21. Va in scena a Sinago City, spettacolo di Gabriele Vacis e Aram Kian. E infine libri alla libreria La Torre di Abele in Via Pietromicca 22 alle 18 per il ciclo La Primavera di Mini Mufax, presentazione del romanzo di Richard Yates, Revolutionary Road. Anche per oggi è tutto, a te la linea. Grazie Matteo. Allora noi chiudiamo con le webcam, andiamo a vedere la situazione in città ancora in questa bella giornata di sole in attesa della pioggia prevista per il weekend. Qui siamo in Piazza Palazzo di Città, questa è al momento l'inquadratura della piazza. Qui siamo invece allo Stadio Olimpico nella zona sud della città, poco distanti eccoci in Piazza Pitagora, abbiamo qualche auto in attesa al semaforo in direzione Lingotto e qui invece alla rotonda autostrade verso la Torino-Milano, come vedete come ogni venerdì a quest'ora abbiamo un po' di auto in uscita dalla città. Bene, allora io vi ringrazio per averci seguito, grazie a Mario Parena per la messa in onda, vi ricordo che è disponibile già sul nostro canale YouTube il nostro settimanale culturale girato questa settimana all'Armeria Reale. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon weekend. Grazie per averci seguito, grazie a tutti.